Il Comitato Amici Parco della Pertite ha consegnato a Cristian Fiazza, Presidente del Consiglio Comunale, ben 2017 firme, raccolti in appena quattro banchetti organizzati al sabato mattina in via 20 settembre. Il Comitato chiede all'amministrazione che la destinazione dell'area sia quella di parco urbano e non di verde attrezzato. Per chiedere sostanzialmente, anzitutto, che il Consiglio poi rispetti quello che è la volontà dei cittadini di Piacenza che hanno più volte, non solo con più di 20.000 firme che hanno fatto in questi ultimi otto anni, ma con i 30.000 persone che sono andate a votare per il parco della Pertite, che ancora una volta finalmente si è dato l'ok a questa importante soluzione. Se si vuole rispettare questa volontà popolare, bisogna cambiare la destinazione d'uso della Pertite, che oggi è quella di verde attrezzato, che significa che si può raggiungere il 70% di impianti sportivi, quindi non certamente un parco, ma che possa essere trasformata in verde pubblico, cioè un parco al servizio di tutti i cittadini di Piacenza. Lunedì, in Consiglio Comunale, si discuterà esattamente di questo tema. Questo potrebbe essere l'ultimo atto sul problema Pertite di questa consigliatura, ma per noi non è, se va in una direzione contraria, non è certamente l'ultimo atto. Continueremo. Fiazza, nel momento in cui ha ricevuto le firme, ha commentato. 2.000 firme raccolte in un mese sono davvero tante e testimoniano l'attenzione dei cittadini al tema. Il risultato del referendum, anche se non ha raggiunto il quorum, è stato politico e credo che la politica non debba nascondersi dietro ai tecnicismi.